Quando subisci delle molestie telefoniche, blocca il numero di telefono che ti disturba dal tuo dispositivo oppure iscriviti al registro delle opposizioni per eliminare telefonate indesiderate. Chiama il numero verde 800 265 265 oppure compila il modulo che trovi su www.registro delle opposizioni.it. L'autorità garante per il trattamento dei dati personali ha stabilito che se non si presta il proprio consenso nessuno può prendere i nostri dati dall'elenco telefonico per fare offerte commerciali per telefono o tramite posta. Chi è a casa tuttavia sa che questo provvedimento non viene mai rispettato. Infatti le telefonate commerciali sono ripetute e a volte anche assillanti. In che cosa consiste il registro delle opposizioni? Il registro pubblico delle opposizioni è un servizio gratuito per l'utente che permette di opporsi all'utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati. L'utente può richiedere l'iscrizione, l'aggiornamento dei dati e la revoca al RPO tramite quattro modalità web, telefono e mail. Invio tramite posta elettronica di un apposito modulo, ora comandata.